Un saluto ai nostri telespettatori, un approfondimento particolare di Focus in esterna. Abbiamo diversi ospiti, infatti quest'oggi parleremo della bonifica, del contributo della bonifica in particolare, ma anche del ruolo e delle attività del Consorzio di Bonifica dell'Agro Nocerino Sarnese. Lo facciamo ovviamente innanzitutto con il commissario del Consorzio, l'Avvocato Rosario D'Angelo, che saluto ma ringrazio soprattutto per l'ospitalità presso la sede qui del Consorzio di Bonifica. Accanto a lui due tecnici del Consorzio, che sentiremo appunto, sono due nostre vecchie conoscenze, che sentiremo appunto nel corso della trasmissione e ci spiegheranno nei dettagli che cosa sta accadendo. Una progettualità per il 2018 che prevede diverse innovazioni, ma soprattutto interventi a favore dell'area nord della provincia di Salerno. Qui abbiamo una mappatura che è una ricatalogazione del territorio di competenza del Consorzio di Bacino e capiremo appunto quali aree sono ricomprese appunto nella bonifica, nel Consorzio di Bonifica. Prima di fare tutto questo, a Convocato D'Angelo, dicevamo appunto queste novità che ci sono e ci fanno, ne abbiamo parlato a microfoni spenti prima di iniziare questa trasmissione, ci fanno presagire un 2018 comunque denso di attività, il che ci fa dire non è vero che esistono enti inutili, perché laddove si vuole lavorare ci sono delle deleghe specifiche, delle competenze territoriali a cui non si può sopperire diversamente. Una di queste è sicuramente la competenza territoriale del Consorzio di Bonifica dell'Agrano Cerino Sarnese e per questo avete proceduto innanzitutto ad una riclassificazione, una pianificazione, un piano di classifica in particolare che prevede un aggiornamento anche nei tributi stessi. Parlando in generale dell'intervento di manutenzione ordinaria che noi facciamo continuamente sul territorio, che non si soltanto compone degli interventi che possiamo fare con i nostri mezzi, con i nostri operai, ma anche di sanzioni, di verifica del territorio, qualora ci fossero praticamente delle illecità o presenze sul territorio. Noi con la nostra polizia di trago, con la nostra attività di monitoraggio, lo facciamo continuamente. Posso fare l'esempio che poi approfondiremo con i nostri due tecnici di spazio, direttore generale, ingegnere Luigi Daniele e l'ingegnere Bruno Carloni, capo dell'area tecnica del Consorzio, anche capo della Polizia Idraulica che fa un'attività insieme agli altri enti, i comuni, l'ente Parco Regionale del Fiume Sarno e associazioni presenti sul territorio che fanno un'attività proprio di prevenzione e di tutela dell'ambiente. Quindi è cambiata anche l'aspetto di intervento molto spesso sul territorio, cambiando il territorio e quindi con l'aggiornamento prima del nuovo piano di classifica che era innanzitutto doveroso perché era un piano di classifica quello precedente del 1996, quindi vecchio possiamo dire e non uniforme a quella che era la nuova legge regionale, la legge 4 del 2003, quindi era necessario e importantissimo da parte dell'ente rimodulare e riadeguare il nuovo piano di classifica. Che non era neanche corrispondente probabilmente al territorio, era la situazione attuale sia dell'urbanizzazione del comprensorio. Più che altro era un elenco, invece è un elenco dettagliato, invece questo piano di classifica è dettagliato, basato su rilevi salivitari, su studio idraulico approfondito, dettagliato e soprattutto poi come spiegheranno meglio i tecnici qua presenti che entreranno poi nel dettaglio del piano di classifica, ovviamente spiegheranno qual è il valore, qual è l'importanza che ha per il territorio e per l'ente stesso. Dunque, progetti che riguardano appunto il futuro, un piano di classifica che per intenderci e lo faremo spiegare ovviamente subito ai nostri tecnici, ma riguarda appunto un aggiornamento delle retribuzioni, del cosiddetto tributo di bonifica che tutti i cittadini che insistono sul territorio proprietari di immobili devono versare. E allora, Ingegnere Daniele, mi rivolgo subito a lei perché diciamo che questa è un po' stata anche materia del contendere i cittadini, perché è una diatriba in atto, perché devo pagare la bonifica se non ho direttamente strutture che sono a ridosso di canali o di fiumi. In realtà va chiarito che per legge tutti i proprietari di immobili devono pagare un tributo che poi sarà proporzionato agli standard che avete elencato. Sì, in realtà la legge costa dice che tutti coloro i quali posseggono immobili all'interno del comprensorio di bonifica sono ottenuti al pagamento del tributo che viene determinato dal consorzio sulla base di un piano di gestione anno, cioè per dirla in maniera più semplice ogni anno il consorzio stabilisce quale è il suo fabbisogno e che cosa deve eseguire come opere di manutenzione durante il corso dell'anno. Questo importo poi viene ripartito fra tutti i proprietari di immobili secondo una tabella miresimale che in realtà è il piano di classifica. Che cos'è il piano di classifica? È uno strumento tecnico che stabilisce il beneficio che deriva ad ogni proprietà immobiliare dall'attività del consorzio di bonifica. Ora, perché è stato aggiornato questo piano? Perché il vecchio piano risaliva nel 1996 ed era stato redatto in vigenza della legge giornale 2385. Il nuovo piano invece, oltre che è ricepire la trasformazione straordinaria che c'è stata in 20 anni di questo comprensorio di bonifica, perché ci sono state ovviamente trasformazioni notevoli sia dal punto di vista delle urbanizzazioni che dal punto di vista di urbanizzazione del suolo, che dal punto di vista anche di una serie di modifiche anche della nostra rete idrografica, e recepisce poi quelle che sono anche dettate dalla legge regionale 4 2003 che ha abrogato la vecchia della legge. È un piano molto più perequato, nel senso che mentre determina con maggior precisione quali possono essere gli indici di beneficio a questo oggetto ciascuna proprietà immobiliare, quindi c'è una diversa, nella cartina che è qui davanti a me, si vedono che tutte quelle macchie sono diverse entità. Dopodiché ci sono state anche alcune zone all'interno del comprensorio di bonifica sono state esonerate al pagamento del tributo, perché ricevevano benefici, non ricevevano benefici, in particolare le zone montane, cioè oltre 500 metri di quota, quelle sono state esonerate al tributo di bonifica ed alcune zone nel comune delle parti basse, laddove che sono praticamente, erano servite al canale Conte di Sarno, che pur attraversando il consorzio, il comprensorio del consorzio, non è di competenza consortile, bensì direttamente dalla regione Campani. Leggendo appunto questa cartina vediamo che la zona delimitata in grigio è quella di il perimetro del consorzio, quella è in giallo invece? Il perimetro di contribuente, così è il perimetro di contribuente, cioè all'interno di quella linea gialla ci sono tutti coloro che sono tutti al pagamento del tributo di bonifica. Volevo dire una cosa, il tributo di bonifica si paga, precisare questo, si paga per l'attività di manutenzione ordinaria che il consorzio svolge su tutta la piattaforma scolante, che sono diverse centinaia di chilometri di canali, di rete di canali e delle vasche, circa 22 vasche di assorbimento. Quindi diciamo un'attività che il consorzio annualmente svolge per tenere in efficienza questa rete, che purtroppo però risente anche delle condizioni negative in cui versa la rete principale, cioè costruite dal Fiume Sano, dal Vico Monocerino e dal Torrente Solofrano, che non sono di competenza del consorzio, che però condiziona negativamente anche l'attività che fa il consorzio, perché avrebbero bisogno di una sistemazione idraulica generale, che dovrebbe essere poi finalmente portata a termine con il grande progetto sano, con l'attuazione del grande progetto sano, di cui noi ci auspichiamo che ciò avvenga il prima tempo possibile, per cui diciamo spesso sembra che l'attività del consorzio non sia così efficace ed efficiente, ma in realtà l'attività del consorzio è condizionata negativamente dalle cattive condizioni in cui versano questi corsi d'acqua principali. Diciamo che la razza del tributo è proprio questa, non necessariamente avere un'abitazione, se vogliamo semplificare, che affaccia direttamente sul fiume o su un canale, ma perché è il territorio che paga un tributo per una manutenzione complessiva? Manutenzione complessiva e quindi per un'attività che dovrebbe portare benefici a tutti, anche il proprietario di immobili che magari abita al settimo piano di un fabbricato e noi c'è che dice ma io perché devo pagare il consorzio di bonifica che io non vedo nessuna attività, in realtà l'attività è un'attività complessiva sul territorio, cioè per esempio una vasca o delle vasche delle attività che si fanno nel comune di Scafati risentono il beneficio anche il comune di Pompei, anche il comune di Castellammare, anche se materialmente magari non vedono gli operai sul consorzio a Pompei, però in realtà l'attività è perciò si chiama comprensorio di bonifica, altrimenti non ci sarebbe stata necessità di un consorzio, perché il consorzio è un consorzio interprovinciale, abbiamo tre province e 36 comuni, se non ci fosse questa unitarietà della bonifica che diciamo che una goccia d'acqua cade a solufra e ce la troviamo a Castellammare, non sarebbe stato necessario creare i consorziosi, ma sarebbe bastato affidare delle competenze ai singoli comuni, cosa che ovviamente non è possibile. Abbiamo detto, paga la bonifica, quindi un tributo di bonifica il proprietario di immobili ma anche l'ente pubblico o qualunque attività che si svolge sul territorio. Certo, il proprietario di immobili, quindi paga anche la società autostrade, paga la provincia, cioè tutti i comuni per le strade e per le proprie proprietà, tutti coloro i quali sono proprietari di immobili all'interno del consorzio, quindi se strade, scuole, fabbricati, ospedali, tutti pagano il contributo di bonifica. L'Enel per i suoi elettrodotti. Abbiamo chiarito una querelle che tanti cittadini avevano messo in campo, questa quasi ingiustizia tra virgolette del dover pagare per qualcosa di cui non si usufruisce direttamente, ma indirettamente ingegnere, perché tutti siamo tenuti alla tutela del territorio. Volevo aggiungere qualche altra cosa rispetto a quello che ha detto l'ingegnere, a completamento di ragionamento che è stato fatto egregiamente dal collega. Il valore di un immobile, come noi sappiamo, non dipende solo da fattori intrinseci, quali la superficie dell'immobile, le caratteristiche di rifinitura dell'immobile, pavimenti, rivestimenti, eccetera. Ma dipende anche dai fattori cosiddetti estrinseci, cioè dalle condizioni del territorio, del contorno, dell'ambiente in cui l'immobile si trova. Ovviamente quindi l'attività di bonifica, creando maggiori condizioni di sicurezza sul territorio, maggiori condizioni di agibilità, si ripercuote nei fattori estrinseci sul valore dell'immobile. Ecco per cui a volte uno non riesce a comprendere perché mai dovrebbe pagare un tributo di bonifica, dice, ma io sto lontano dai canali, lo sto semmai al settimo piano. Però quella persona comunque riceve un beneficio in quanto proprietario di un immobile che il cui valore viene incrementato dall'azione di manutenzione del territorio. Si paga in base a che cosa? Allora nel nuovo piano di classifica, come giustamente diceva l'ingegnere Daniele, abbiamo rivisto un po' questi criteri sul calcolo della determinazione del beneficio. Mentre prima il beneficio veniva calcolato in base all'intensità delle opere di bonifica presenti in una determinata zona del territorio. Ora invece si va più sullo specifico del vantaggio che uno riceve, come basandosi su dati ufficiali, cioè sui dati approvati e studiati dall'autorità di Bacino. Quindi ci sono i fogli del piano Stalcio per l'assetto idrogeologico, i fogli che praticamente definiscono qual è il grado di pericolosità idraulica di una determinata zona del territorio, per cui i fogli di mappa catastali nel nostro piano di classifica sono stati sovrapposti a questi fogli sulla pericolosità idraulica e idrogeologica. Ovviamente questi indici di beneficio che noi calcoliamo vengono calcolati sulla base di questa pericolosità. Maggiore è la pericolosità di una determinata zona del territorio, maggiore è il rischio di essere soggetti ad allagamenti o a frane accolate eccetera, maggiore è il beneficio che il proprietario dell'immobile in cui la determinata zona riceverà dall'attività di manutenzione ordinaria delle opere di bonifica. Quindi non si paga in base alla metratura dell'abitazione ma... Anche perché quello influisce sul valore dell'immobile, quindi anche il beneficio è direttamente proporzionale al valore dell'immobile, quindi un capannone, ad esempio, industriale pagherà molto di più rispetto a un appartamento di pochi metri quadrati, come pure un appartamento di 200 metri quadrati paga in più, perché la base è sempre la rendita catastale, quindi il valore dell'immobile. Però il beneficio viene poi determinato sulla base appunto di questa sovrapposizione tra i valori tecnici e economici estimativi del catastro e invece la pericolosità idraulica e idrogeologica che è stata determinata scientificamente dall'autorità di Bacino. Per dirla pagherà di più chi si trova vicino ai corsi d'acqua, chi ha una proprietà vicino a un corso d'acqua? Non determinato dalla vicinanza ma dalla pericolosità. Questo è un piano che entrerà in vigore non appena riceverà l'avallo della regione Campania. È un piano redatto con strumentazioni e apparecchiature sofisticate in modo da adeguarlo realmente alla mappatura e alla situazione reale del territorio. Sì, era necessario, era fondamentale. Sarà applicato il risultato, speriamo, entro la fine dell'anno, al massimo inizio dell'anno prossimo, di poterlo rendere efficace e quindi poi emettere il nuovo ruolo sulla base del nuovo piano di classifica. Questo non significa aumento e diminuzione ma soltanto una ripartizione basata su dati scientifici e su quello che è il nuovo corso delle nuove leggi regionali e il cambiamento del territorio, come hanno spiegato bene i due tecnici e i due ingegneri qui presenti al tavolo. Tornando invece su quello che è l'attività generale del Consolo. Quindi sul piano di classifica dobbiamo anche dire che questi fondi che verranno poi, che saranno frutto dei tributi versati dai contribuenti, avvocato, serviranno prettamente per la manutenzione ordinaria? Certo, servono esclusivamente per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica. Ovviamente non si può dirottare il tributo su opere che non siano finalizzate a quella che è la bonifica integrale in questo caso. Quindi questo è importante. Ricordando che il piano di classifica è una tabella millesimale. È il piano poi di gestione dell'ente che in questo caso è il 2018, ovviamente stabilirà le modalità di intervento, le priorità e i piani di progettazione che poi verranno messi in campo e quindi anche poi i finanziamenti da chiedere alla Regione per gli interventi straordinari o di ordinare la manutenzione di può fare sul territorio. Questo è un aspetto importante. I tributi vengono utilizzati unicamente per le competenze specifiche. La manutenzione straordinaria o qualunque altra opera che verrà progettata dovrà ricevere risorse esterne, in particolare per i lavori che potrebbero essere delegati dalla Regione, dovrà essere la Regione a pagare direttamente il consorzio, così come per una progettazione superiore, vero Ingegnere? Sì, allora l'articolo 12,1 della legge regionale numero 4 2003 ci impone di utilizzare questi contributi derivanti dall'imposizione tributaria solamente per la manutenzione ordinare delle opere di bonifica. Questo non significa che il consorzio non sia competente nel progettare nuove opere di bonifica, nel realizzare nuove opere di bonifica. Questo non vuol dire che il consorzio non sia competente nell'effettuare anche i lavori di sistemazione idraulica sulla rete idrografica principale. Ma tutte queste attività, differenti dalla manutenzione ordinare che si può pagare con i tributi, tutte queste attività devono essere finanziate necessariamente dalla Regione Campania o dallo Stato. Perché la legge regionale ci impone di utilizzare quei fondi solo per la manutenzione ordinare. E qua ci sta poi questo equivoco sulle competenze tra noi, il Genio Civile e la Regione. Perché non si è mai chiarito in effetti bene, cioè nell'opinione pubblica non ha mai capito questa differenza che può sembrare sottile ma che invece è una differenza sostanziale. Al Genio Civile tocca eseguire i lavori di competenza della Regione al consorzio, innanzitutto quelli ordinari, quindi parliamo della manutenzione ordinaria. Ciò non toglie però, Avvocato D'Angelo, che il consorzio può svolgere altri tipi di interventi su delega della Regione stessa. Sono tantissimi gli interventi che negli anni il consorzio ha svolto su delega della Regione Campania, con finanziamento ovviamente regionale della Regione, in questo caso sull'intero territorio. Basta ricordare l'opera che è quasi completata a Pagani e a Sant'Egidio praticamente, una nuova opera, una nuova opera di bonifica completamente finanziata da Regione Campania e progettata dal consorzio, dai suoi tecnici, eccetera. Che è importante che il consorzio ha comunque una struttura tecnica fatta da tecnici, ingegneri, eccetera, capace e pronta sul territorio a servire quelle che sono le esigenze. Questa è una struttura importante che il territorio ha, il territorio voglio dire di 36 comuni e comprensori, perché noi abbiamo fatto, alcuni comuni ci chiedono di intervenire, di redigere progetti, addirittura esecutivi da parte dei nostri tecnici perché sono innanzitutto validi ed efficaci e abbiamo le competenze e le risorse, anzi ci vorrebbero forse più ingegneri da dare una mano a quelli attuali presenti. Ed è completamente a servizio del territorio, facciamo un protocollo di intesa con tantissimi comuni. C'è un progetto adesso che, in particolare sul comune di Sarno, un progetto completamente redatto e preparato dal consorzio di bonifiche per quanto riguarda la zona di lavorate, per evitare gli allagamenti, se allarga continuamente, sul finanziamento in questo caso dello Stato da parte del comune e su un progetto realizzato dai nostri tecnici, dai nostri ingegneri. La stessa cosa stiamo facendo sul comune di Angri, abbiamo fatto tanti protocolli di intesa con Torre Annunziata, con Nocera Superiore e con altri comuni che ci chiedono, Castel San Giorgio uguale, Montoro. Quindi abbiamo una serie di protocolli, di intesa, di progetti in itinere con tutti i comuni perché la collaborazione, capita anche ovviamente dai sindaci, è fondamentale per quanto riguarda il nostro territorio. Diciamo che gli uomini ci sono tra l'altro, magari servirebbe qualche ingegnere in più ma dal punto di vista del personale il consorzio può dare una grossa mano anche sopperendo alle lacune che gli organici pubblici oggigiorno hanno. Occorre ovviamente potenziare, rafforzare anche dal punto di vista delle strumentazioni e coadiuvare l'attività del consorzio stesso come, appunto le diceva, un ente sovracomunale che può agire in sinergia a coordinamento dei comuni stessi. Sì, perché quando c'è un'emergenza, ci sono queste piogge continue, noi siamo un ente che immediatamente, con tutti i suoi limiti, perché non dimentichiamoci sempre che comunque il nostro ente è un ente che viene dalla situazione economico-finanziaria critica importante, con l'approvazione del previsionale 2018 che poi porteremo in Regione, comunque c'è un deficit importante annuale che viene fuori e quindi che va aggredito e vanno portati gli strumenti importanti per poter rovesciare questo tipo di situazione economico-finanziaria dell'ente. Ci sono i margini su questo? Su questo stiamo lavorando in sinergia anche con la Regione, dobbiamo vedere che è importante. Detto questo, è fondamentale l'opera del consorzio sul territorio come ente di primo intervento, moltissimi dei nostri interventi, dopo vi spiegherà l'ingegnere Carloni, per esempio su Montoro che abbiamo fatto le settimane scorse, sono interventi che facciamo in amministrazione diretta, non facendo gare d'appalto. Ovviamente con i nostri mezzi noi abbiamo più di 100 operai a disposizione sul territorio, possiamo dire che molto spesso molti interventi sono fatti a mano come a Cuba, però è un'opera comunque fondamentale. Oggi la Regione Campania per l'anno prossimo ha previsto un bando di gara che va dai 8 ai 12 milioni di euro per dare mezzi a tutti i consorsi presenti tramite il distretto dell'agricoltura. Noi ci stiamo approntando a fare praticamente un progetto presentando con tutti i mezzi che ci servono per poter poi essere pronti ad intervenire in modo diretto sul territorio, sia quando viene chiesto dall'autorità, in questo caso il Genio Civile, l'autorità regionale, o anche dai comuni, o quando noi stessi prevediamo di intervenire su un'attività di ordinaria manutenzione. Quindi è fondamentale questo passaggio che probabilmente ci sarà l'anno prossimo in questa gara regionale in cui fornirà mezzi e strutture tecniche per poter i consorsi poter lavorare meglio sul territorio. È il dubbio che si lavora bene, si lavora meglio e si offrono risultati ai territori quando si lavora in rete, in squadra. Com'è il rapporto con i comuni stessi, Avvocato? No, diciamo che l'approccio è migliorato in questi anni, è un momento di diffidenza che c'è la reciproca, anche grazie alla volontà nostra e hanno capito che non siamo un ente chiuso, siamo un ente aperto e fondamentale per il territorio. C'è un approccio diverso, c'è anche una conoscenza da parte dei sindaci, dell'amministrazione, ma anche dei cittadini di un rapportarsi diverso con quello che oggi è il consorzio. Si diceva di interventi particolari, nel progetto sul canale Bottaro abbiamo accennato, è stato fatto un cenno anche alla vasca di Valore Pignataro che dovrebbe mettere in sicurezza il territorio della città di Pagani, qui c'è stato un fermo di natura burocratica, ma siete in direttura d'arrivo. Sì, per quanto riguarda l'intervento importante della vasca Pignataro e delle briglie che stiamo realizzando al di sopra del centro storico di Sant'Egidio, c'è stata una sospensione dovuta a un contenzioso che è nato con la SNAM, che per ora è addirittura d'arrivo perché abbiamo fatto una perizia di variante e il Genio Civile finalmente l'ha approvata e quindi i lavori dovrebbero riprendere dopo Natale, si dovrebbero portare al compimento, anche se la vasca in effetti al 90% è già funzionante, si tratta di fare le opere di rifinitura tipo la condotta di emergenza e fare le ultime opere di recinzione e di sistemazione. Per quanto riguarda invece gli altri interventi che abbiamo programmato sul territorio, qua ci sarebbe da parlare tantissimo perché i nostri progetti spaziano da Montoro fino a Torre Annunziata insomma, quindi semmai ci vorrebbe un altro focus su questo. Vedevo comprensorio alto e comprensorio basso, quindi una suddivisione comprensorio. Noi ci siamo organizzati così per la manutenzione ordinaria, abbiamo diviso il nostro comprensorio in due subcomprensori, uno è quello alto, cioè sarebbe la parte a monte di Nocera Inferiore, quindi da Cassel San Giorgio, San Severino, Cava, Nocera Superiore, andare fino a Solufra. Invece il comprensorio basso comprende il comune di Nocera Inferiore e poi la zona bassa del comprensorio, quindi Pagani, Sant'Egidio, Sant'Antonio Abbate, Castellammare, Scafati, Poggio Marino e così via dicendo. Abbiamo affidato la manutenzione, prima c'era un solo capo ufficio di manutenzione, ora invece abbiamo creato due uffici di manutenzione, che però non è che lavorano senza coordinarsi, lavorano sempre sotto il coordinamento della direzione aria tecnica. Però creando questi due responsabili abbiamo snellito un po' anche, abbiamo alleggerito un po' i carichi di lavoro di ciascun capo ufficio. E quindi stiamo andando benissimo, stiamo andando meglio. Infatti tutti i comuni ce lo riconoscono che i lavori di manutenzione da qualche anno sono molto più visibili rispetto a prima. Abbiamo poi realizzato un book fotografico ultimamente su questi lavori effettuati negli ultimi sei mesi e questo book fotografico può essere da tutti visionato sul nostro sito web ufficiale al link lavori dove si vedono sia i lavori in tempo reale, cioè i lavori che noi eseguiamo giorno per giorno, sia i lavori effettuati negli ultimi sei mesi. E questo dossier fotografico è organizzato per comune. Cioè uno vuole sapere se mai, dice, abito al comune di Angri, dove voglio vedere i lavori fatti solo nel comune di Angri. Va lì, clicca su Angri e escono le foto di tutti i lavori eseguiti nel comune di Angri negli ultimi sei mesi. Questo perché vogliamo dare molta pubblicità all'attività che facciamo. In modo anche trasparente. Molto trasparenti. Perché ci rendiamo conto che molto spesso la nostra attività non viene valorizzata perché manca appunto il messaggio pubblicitario, la propaganda. Invece la propaganda, come si suol dire, è l'anima del commercio. E quindi anche l'ente pubblico è soggetto a fare propaganda. A comunicare. Anche perché deve dare conto di quello che... Cioè io riscuoto un tributo, devo dare conto di come lo spendo. E quindi è molto importante, e questo è bisogno di reatto all'amministrazione d'Angelo, di avere dato un impulso molto forte su questo fronte qui della pubblicità. E questo è anche il motivo per cui siamo qui oggi con voi. La comunicazione è importante anche perché i cittadini comprendono il lavoro svolto, ma soprattutto anche le amministrazioni si rendono conto di quello che si fa sul territorio, anche delle necessità ulteriori eventualmente. Ingegnere Daniele si diceva di questa necessità di stringere sinergie, di creare rapporti con gli enti comunali, anche come una sorta di task force, perché visto i tempi a cui ci stiamo abituando, anche le condizioni meteorologiche che sono mutate, le emergenze continue dei territori stessi, è gioco forza a fare fronte comune per fronteggiare poi le situazioni di rischio. Una competenza la vostra che è di carattere ordinario, ma anche di interventi, fatta di interventi straordinari, come quello sul Bottaro per esempio. Certamente, diciamo che la sinergia deve essere necessaria, come è stato detto, con i comuni, perché abbiamo problematiche, diciamo, cerchiamo di agire tutti quanti nella medesima direzione, che è quella della difesa del territorio e di evitare, quando è più possibile, che le calamità naturali possono arrecare danni, diciamo, irreparabili ai cittadini e ai beni. Per quanto riguarda il canale Bottaro, che era un vecchio canale di irrigazione, che prelevava le acque dal centro di Scafate, dove c'è un complesso di paratoie, e che prima serviva per alimentare un mulino, successivamente viene utilizzato tantissimi anni fa dal Consorzio per distribuire acqua ad uso in riguo. Poi, purtroppo, viste le condizioni di inquinamento del fiume Sarno e tutto il bacino, insomma, questa operazione è stata più possibile, quindi il Consorzio lo ha dismesso come opera in rigua. E però, purtroppo, vi è ancora il recapito di alcune fognature di reflui civili dei comuni che si affacciano sul canale. Ragion per cui c'è una situazione, diciamo, igienica ed anche, diciamo, idrarica, un po' complessa, diciamo, che creano poche difficoltà a tutti coloro i quali si affacciano sul canale. E così che è stato redatto, su impulso anche della Regione, è stato redatto un progetto per la rimozione di una parte di tutti questi fanghi che sono depositati sul canale, che poi sono fanghi particolari, quindi devono essere smaltiti in apposite discariche, e che noi adesso abbiamo determinato uno studio di fattibilità, che trasmetteremo alla Regione, che ci ha promesso un finanziamento, così che potremmo sanificare questo canale, insomma, e quindi rendere il centro di Scafati e anche Castellammare decisamente un poco più vivibile. Una cosa che prima di osservare è che, purtroppo, noi nel comprensorio dell'agro-Sarnese-Nocerino, cioè nel bacino di Trabafio del Sarno, nonostante i commissariamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Generale Iucci e le opere fatte, ancora, purtroppo, dobbiamo scontare un enorme ritardo per quanto riguarda il completamento dei reti fognari da parte dei soggetti gestori, quindi ci sono molti comuni che, purtroppo, utilizzano ancora oggi la nostra rete di canali come scarico per i refugli civili ed industriali. E quindi crea... Questa è una cosa gravissima. Una cosa grave, sì, che crea non suoi problemi al Consorzio, sia dal punto di vista della qualità dei sedimi che noi andiamo a trattare, perché vanno poi... E sia anche per la salute dei nostri operatori. È ovvio, ecco, un esempio, uno dei esempi, il canale Sant'Omaso, che attraversa Angri, il quale ormai è una vera fogna di cielo a piedi aperti, noi abbiamo fatto un'opera di censimento puntuale di tutti gli scarichi e abbiamo anche sanzionato e trasmesso da giudiziari a tutti coloro i quali scaricano, diciamo, senza nessuna depurazione, le acque all'interno di questo canale. Ma purtroppo questo è un problema che si verifica in gran parte nel comprensorio, perché nonostante gli sforzi fatti c'è ancora molto a lavorare per quanto riguarda il collettamento delle acque nere. Infatti occorre avviare gli impianti di depurazione delle singole città, dei singoli comuni. Purtroppo questa problematica rende un po' meno visibile l'attività del Consorzio, perché il cittadino alle volte non capisce che l'attività del Consorzio è un'attività di bonifica, ma non di bonifica di rifiuti o bonifica delle acque, ma bonifica idraulica nel senso, diciamo, stretto. E quindi fa un po' di confusione. Magari in un canale che è sporco e ci sono acqua e reflui ha debita la responsabilità del Consorzio, quando invece il Consorzio è danneggiato da questa attività, non è, diciamo, l'attore. Bensì è un soggetto passivo, purtroppo, danneggiato da questa costruzione. Ingegnere, visto che siamo in argomento, questo esula un po' dalla sua competenza, ma io le faccio una domanda giornalistica. Avete una mappatura dei comuni che non sono ancora in regola con la depurazione degli impianti della rete fognaria? Ma ci sono, sì, noi abbiamo una mappatura, ma in realtà quello che fa effetti non è che sono i singoli comuni. Purtroppo adesso c'è il soggetto gestore del servizio integrato a cui spetta di realizzare il completamento delle fogne, perché il commissariato del generale Iucci ha realizzato i collettori di impianto di depurazione, però molti comuni ancora, cioè il soggetto gestore, non ha ancora realizzato quei tratti che servono a collettare le acque nere nei collettori realizzati al generale e quindi portarli in impianto di depurazione. Speriamo che questo avvenga realmente al più presto. Uno dei propositi, anzi un monito, che noi vogliamo rivolgere all'ente gestore appunto per il 2018, perché risolvendo questo si risolve il 50% delle problematiche legate alle questioni ambientali del territorio, quelle legate alle acque, al fiume Sarno, alla depurazione e alle reti fognarie. Siamo a fine anno, Avvocato D'Angelo. Normalmente si suole fare un bilancio delle attività svolte, un consuntivo e poi uno previsionale. Quello previsionale più o meno lo abbiamo accennato, quello che c'è in cantiere, c'è molto che bolle in pentola, ma lei si ritiene soddisfatto di quello che è stato realizzato per quest'anno che ci lasciamo alle spalle? Beh, soddisfatto, cioè contento della valorizzazione in questi, oramai sono quasi due anni che io sono commissario di questo ente, a gennaio di quest'anno il mio mandato scadrà, quindi per decidere alla Regione Campania come proseguire o meno su questa situazione. Mi ritengo soddisfatto per aver valorizzato quello che c'era all'interno del consorzio, quindi la struttura tecnica validissima, con punti di eccellenza importanti. gli operai, le maestranze che stanno all'interno che comunque sono una forza importante che coadio anche l'attività dei comuni, della protezione civile, locali, eccetera, eccetera. Anche l'importante, adesso ci serve quello step ulteriore perché ricordiamo, questo ente grava da questo punto di vista un deficit enorme, è un debito enorme, è pregresso ovviamente, parliamo di oltre 40 milioni di euro di debiti e ricordiamo sempre che ogni giorno qua arrivano pignoramenti molto importanti che superano i centinaia di milioni di euro. C'è un piano di risanamento in atto? Un piano di risanamento l'abbiamo presentato alla Regione, abbiamo chiesto l'autorizzazione, in questo caso, alla Regione Campania di portare avanti il piano di risanamento che prevede ovviamente anche l'abbattimento del costo del lavoro che comunque è importante, quindi cercare di aiutare a meno chi ha maturato l'età contributiva di andare in pensione, quindi questo attraverso, vediamo, un incentivo, come fare, eccetera, e anche di stabilire poi dove effettuare ulteriori tagli di spese che potrebbe essere in questo caso, questo vedremo l'anno prossimo, anche per quanto riguarda l'irrigazione, che anche qui, se abbiamo parlato di bonifica, ma anche l'irrigazione è un altro compito importante del Consorzio che svolge soprattutto nell'attività della parte di estiva, tra maggio e mese di agosto, e anche ci porta comunque, il ruolo di rigo a noi porta comunque delle entrate abbastanza basse, seppur modificate in questi ultimi due anni, e anche qui dobbiamo decidere di intervenire in modo capillare, perché un ente non può spendere 100 e incassarne 20, quindi deve per forza mettere mano e operare un taglio. Queste sono un po' le prospettive, senza dimenticare poi dell'importante opera che il Consorzio svolge, forse l'avevamo tralasciata, ma ci ripromettiamo anche di affrontarla questa tematica in uno dei prossimi incontri, magari quella della prevenzione e della repressione, perché il Consorzio di Bonifica ha un'attività di polizia importante contro gli abusi. Certo, questo mi preme sottolinearlo, è stato uno dei miei primi impulsi quando sono stato nominato commissario, devo dire la verità, ho trovato all'interno dell'ente piena collaborazione, anzi è stato redatto un nuovo piano, attraverso una delibera, un nuovo sistema di sanzioni per quanto riguarda gli scarichi illeciti e anche per quanto riguarda in tema di autorizzazioni poi a serve o scarichi idraulici, facciamo l'esempio anche di Fosso Imperatore, che è nato alle cronache più volte, assumendosi anche responsabilità che andavano forse oltre, ma per salvaguardare quello che è il diritto primario della salute dei cittadini, che è un diritto fondamentale, ricordiamo, se non cito dalla Costituzione, è previsto dalla legge, che è il primo diritto che va oltre ogni cosa, anche l'interesse specifico economico, che è importante ovviamente. Quindi noi coordinandoci con gli enti, con i comuni in questo caso, in attività di repressione, di sanzione, di accertamento, abbiamo segnalato agli enti competenti, in primis la Procura, ma anche ad altri enti sovracomunali, sovracomunali, della nostra attività. Infatti il Canale San Tommaso, che prima richiamava l'ingegnere Daniele, qui siamo stati uditi qualche settimana fa dalla Commissione Inquinamento del Bicamerale del Parlamento, noi abbiamo portato a conoscenza, con relazioni, con fotografie, con mappe e cartine, ai membri di questa Commissione, dell'attività che ha svolto il Consorzio, che è stata molto ovviamente presa in considerazione, da parte delle autorità parlamentari del nostro Paese. Io ringrazio per questa chiacchierata, proficua anche perché è nata sulla scorta dell'illustrazione della nuova pianificazione che entrerà in vigore non appena la Regione Campania approverà, che è il piano di classifica che prevede una riclassificazione appunto dei tributi, dei cosiddetti tributi di bonifica. Abbiamo illustrato anche chi dovrà pagare e per che cosa bisognerà pagare un tributo dovuto dalle popolazioni residenti nell'ambito del territorio della Valle del Sarno, un tributo dovuto al Consorzio di Bonifica Integrale. Grazie per averci ospitato qui, ovviamente grazie a voi da casa per averci seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.